Ciao e benvenuto e buonasera a tutti! Buonasera, stasera volevo raccontarvi una cosa un po' particolare, nel senso che sicuramente quasi tutti, molti di voi conoscono quelli che sono i vibratori. I vibratori sappiamo tutti quanti che sono degli oggetti, in particolare per la masturbazione femminile, che servono, cioè anzi no, che servono fatti, in forma fallica, ok? E che quindi riproducono praticamente quello che è il pene e vengono utilizzati come se simulando diciamo una qualsiasi normale penetrazione. Ma, e lo voglio sapere nei commenti, quanti di voi sanno che esistono al mondo i vibratori liquidi? Già, cosa sono i vibratori liquidi? Non sono nient'altro che dei gel o delle creme o degli oli che hanno delle sostanze che fanno sì che una volta applicate sulla pelle, questa incomincia a fornicolare. Quindi, ovviamente, applicati sugli organi genitali, richiamano, queste sostanze richiamano l'afflusso del sangue, quindi la zona si va a, diciamo così, surriscaldare, ok? Aumenta il desiderio, quindi aumenta la circolazione sanguigna, aumenta il desiderio e quindi si provano veramente sensazioni strepitose e diversi dal solito. I vibratori liquidi possono essere utilizzati da single o in coppia. Quindi, uno dei must proprio per le coppie e che voglio farvi vedere questa sera è l'Olympia Vibrating, questo qua. Olimpia Vibrating e cosa succede? È anche chiamato, praticamente, il vibratore degli dei e vediamo qua proprio che è proprio l'Olimpo, quindi questa Olimpia Vibrating. Come è composto, praticamente? Beh, innanzitutto noi lo possiamo utilizzare, ripeto, singolarmente o in coppia, magari anche come per le donne, anche magari per quelle che hanno poco desiderio possono comunque utilizzare. Basta veramente una goccia, una goccia, due al massimo, altrimenti si ottiene l'effetto contrario se si esagera, quindi non sia piacere. E dopo pochi secondi inizierà questo formicolio e la parte dove abbiamo applicato questo vibratore continuerà a vibrare per 45 minuti, circa, più o meno quasi. Comunque, un buon periodo. Cosa ha all'interno questo? Questo è molto forte, molto particolare perché all'interno contiene olio di semi di cannabis sativa, ok? E praticamente il suo effetto è prima una stimolazione lieve che pian piano passa a forte ed è percepibile praticamente da tutti, anche se uno è poco sensibile e lo riesce a percepire. Quindi, come ho detto prima, per coppie ma anche per single. Per single ovviamente lo applichiamo e poi ci dedichiamo all'autoerotismo ed è veramente, veramente piacevole. Questo è quanto. cosa posso dirvi di questo prodotto che, vabbè, vi ho già detto che contiene i semi, i oli di semi di cannabis sativa, ha una durata fino a 45 minuti. Ah sì, ovviamente è senza parabeni, ok? Non ha zuccheri o glutine ed è al 100% vegano. La bottiglietta sembra piccola ma devo dirvi la verità che anche se sono solo 6 millilitri, come vi ho detto prima bastano una massimo due gocce per veramente sensazioni strepitose e quindi la sua durata anche della boccetta è notevole, insomma, ecco. Questo. Live velocissima, un prodotto singolo, vi ho fatto vedere stasera ma ce li faremo con altre live più lunghe. Lo trovate sempre nello shop www.michelasain.it acquisti i prodotti e compito per casa, acquistatelo, provatelo e fatemi sapere nei commenti di questa live. Ciao a tutti e buonanotte!